Buonasera e benvenuti a questa diretta Facebook che si è resa necessaria per fare un aggiornamento in ordine ai contagi Covid-19 nella nostra città. Si è resa necessaria perché sono rimbalzate notizie un po' amplificate, molto spesso non verificate, in una situazione pure abbastanza difficoltosa dal punto di vista della certezza delle notizie, perché mi dispiace doverlo raccontare, ma è un po' di questa parte che l'azienda sanitaria locale Napoli 3, ma devo dire un po' tutte le aziende sanitarie locali della Campania, non hanno la stessa intensità di attività che hanno avuto nel periodo un po' più acuto dell'emergenza pandemia. E' una cosa che ho sottolineato parlandone con lo stesso Presidente De Luca, apprezzandone lo sforzo che sta continuando a svolgere la Regione Campania, uno sforzo che oggettivamente è prezioso, importante e significativo, ma necessariamente va affiancato a un lavoro sicuramente più qualificato da parte delle aziende sanitarie locali, in particolare dai dipartimenti di prevenzione, che da circa un mese hanno allentato molto l'intensità della loro azione in ordine a tutte le attività connesse dal punto di vista epidemiologico e dal punto di vista della profilassi per quel che riguarda il controllo sui contagi e sugli isolamenti in ordine al Covid-19. Non è un atto d'accusa, ma vuole essere solamente una castatazione, è un incitamento a riprendere una certa attività, soprattutto a potenziare ed adeguare i dipartimenti di prevenzione, le comunità operative di prevenzione collettiva di ogni territorio, di ogni città, perché oggettivamente per come sono articolate e per come sono organizzate è chiaro che non avrebbero mai potuto reggere quei ritmi, perché con un numero di personale completamente inadeguato prima o poi sarebbero scoppiate totalmente, cosa che purtroppo è avvenuta, tant'è vero che abbiamo una serie di difficoltà. Veniamo agli aggiornamenti. Intanto le notizie positive. I due contagiati che erano in ospedale sono entrambi in fase avanzata di guarigione. Una delle due persone è stata già dichiarata guarita perché ha svolto i due tamponi consecutivi, entrambi esitati negativamente, mentre l'altra persona stamattina ha fatto un altro tampone e siamo in attesa degli esiti e non appena avrà una frequenza di due tamponi negativi consecutivi sarà dichiarato guarito e potrà tornarsene a casa. Che cosa è successo negli scorsi giorni e perché le mie lamentele rispetto all'attività svolte dal Dipartimento di Prevenzione delle Asla? Si sono interrotti completamente i flussi informativi. Ovviamente il Sindaco per poter dare informazioni ai cittadini ha bisogno di raccogliere informazioni certe e formali. Quindi comunicazioni che siano formali, formali significa che ci siano dei protocolli, delle note ufficiali, altrimenti diventa un problema diffondere notizie che non sono poi state verificate, non sono state validate ufficialmente dagli organi competenti. Incomincia a tranquillizzare i cittadini, abbiamo avuto nuovi contagi, il che significa che il pericolo di contagio, come abbiamo detto fino alla noia, ripetendolo a dismisura, il pericolo di contagio c'è ed è ancora un pericolo serio. È molto facile ancora contagiarsi. È quindi necessario che ci siano quelle forme di prudenza, tutte quelle misure di protezione, perché i DPI, i dispositivi di protezione individuale, si chiamano così però perché servono a proteggerci, proteggerci dagli altri, quindi dal rischio del contagio, ma soprattutto proteggere gli altri dal rischio di cui ognuno di noi può essere vettuga. Veniamo ai contagiati. Abbiamo riscontrato nuovi sette contagi a portici, che sono articolati in tre nuclei familiari, tutte e tre collegati in un unico ceppo familiare, che significa che non c'è un focolaio, è molto facile che questi contagi si siano in qualche modo trasferiti attraverso degli incontri tra le stesse persone. Tutti i tamponi effettuati ai contatti stretti che sono stati registrati rispetto ai sette positivi, sono tutti tamponi esitati negativamente. Quindi non c'è un focolaio, immediatamente si è circoscritto il contagio. Le persone contagiate immediatamente sono state poste in isolamento, ma già da diversi giorni. C'è stata una difficoltà di comunicazione con l'ASL, perché è capitato in un periodo particolare, come già avevo avuto modo di dire in questa diretta. Ma fondamentalmente adesso abbiamo tutte le comunicazioni ufficiali per avere un controllo della vicenda in maniera attenta, precisa, come è stato fatto per tutti i casi dei contagi che abbiamo avuto. I nuclei familiari sono tre, quindi uno tra l'altro è stato riportato da un giornale, quindi in qualche modo si è saputo che era un professionista, il quale dorme a Portici, nel senso che vive a Portici, è la sua residenza a Portici, ma esercita la sua attività professionale in un'altra città. E nel caso di questo professionista abbiamo riscontrato che tutto il nucleo familiare del professionista è stato sottoposto a tampone, sono tutti negativi, quindi il contagio non si è diffuso neanche nell'ambito familiare. Abbiamo poi un altro nucleo familiare composto da quattro persone, anche qui c'è uno dei due adulti di questo nucleo familiare, svolge una professione, in particolare una professione sanitaria, è risultata positiva, molto probabilmente questa positività, questo contagio sarà avvenuto o nell'ambito familiare o nel luogo di lavoro. In questo caso il contagio ha colpito due bambini e un adulto, mentre l'altro adulto che è uno dei coniugi non è risultato contagiato, il che significa che chi ha adottato delle misure di protezione tutto sommato le misure hanno funzionato. Abbiamo l'ultimo nucleo familiare di contagiati, in cui sono contagiati fondamentalmente tre persone, mentre un minore convivente è risultato negativo alla testa del tampone. Tutti i tamponi effettuati, correlati ai contatti stretti anche rispetto a questo nucleo familiare, sono tutti risultati negativi. Che cos'è che ci tranquillizza? Che cos'è che ci ha fatto, diciamo, come dire, aspettare qualche giorno in più per poter fare una comunicazione più efficace? Io avevo bisogno di capire quale relazione ci fosse da tutti e tre i nuclei familiari e siamo riusciti a comprendere formalmente, ufficialmente, perché abbiamo documentazione ufficiale che ovviamente, insomma, non farò vedere in maniera molto sfocata, ma fondamentalmente ho preteso che ci fossero delle relazioni da parte dell'Asola, perché altrimenti siamo nel campo sempre, come dire, della caccia all'untore o siamo praticamente nel campo di un atteggiamento di comportamenti comunicativi di stampo medievale, noi invece abbiamo bisogno di comportamenti e di comunicazioni certe che diano sicurezza ai cittadini in ordine alle rappresentazioni che svolgono i rappresentanti delle istituzioni. Quindi il Sindaco non è che può svolgere delle sue considerazioni di carattere personale, il Sindaco si deve basare su documenti ufficiali. I documenti ufficiali deve fornire l'Asola. Fino a quando l'Asola non fornisce documenti ufficiali, il Sindaco, che non è in possesso di documenti ufficiali, secondo il mio modo di vedere le cose, si deve astenere da fare considerazioni perché immette notizie non certe, molte volte non fondate, creando ulteriormente panico e facendo, diciamo, un cattivo servizio non solo alla propria comunità ma soprattutto al pubblico servizio. Quindi su questi temi bisogna avere una grande correttezza e una grande prutenza per poter diffondere notizie che devono essere sicuramente validate e verificate. Il tema dei bambini. I bambini che risultano contagiati fondamentalmente sono due. Questi bambini hanno svolto delle attività come svolgono tutti i bambini in questo periodo. Le attività sono state monitorate, sono state sanificate i luoghi dove sono state svolte queste attività, sono stati individuati tutti i contatti stretti e in qualche modo sono stati allertati tutti i gestori di queste attività per poter far comprendere che c'era stato un passaggio da parte di questi bambini in queste attività. Non mi ritengo giusto individuare né dare i nomi di queste attività perché sono stati debitamente informati, sono state svolte tutte le attività di disinfezione e di sanificazione poi i gestori con grande prudenza e con grande discrezione hanno informato o diciamo tutti quei presumibili contatti stretti che abbiano potuto avere rapporti con quei bambini in quei determinati giorni in cui potevano essere ritenuti contagiosi. Da sindaco di Portici mi posso ritenere abbastanza tranquillo e questo penso diciamo possa essere abbastanza esauriente per i cittadini di Portici ma vi assicuro che è stata fatta un'informazione anche ai comuni di Mitrofi perché ovviamente la contiguità del nostro territorio vesuviano è tale che non c'è soluzione di continuità tra la città di Portici la città di Ercolano la città di San Giorgio e alcuni quartieri della città di Napoli quindi da questo punto di vista è stato fatto un lavoro come al solito siamo attento per cercare di dare il massimo della rassicurazione della sicurezza all'intero comprensorio in ordine a questi contagi che abbiamo avuto le persone sono tutte al momento asintomatiche cioè non hanno febbre ma sono in isolamento tutti compresi quelli che sono risultati negativi al tampone ma che sono conviventi e termineranno i giorni di isolamento come da protocollo sanitario cioè 14 giorni dal momento in cui è cominciato l'isolamento dal momento in cui sono diventati dei sospetti e poi alcuni di loro sono diventati positivi al Covid mi pare che da questo punto di vista spero di essere stato esauriente io non riesco a leggere i commenti perché ma eviterei chiedo ai cittadini di evitare di farmi domande più specifiche perché non risponderò a domande specifiche né posso rivelare l'identità delle persone neanche i civici di dove abitano perché sarebbe come identificarli vi posso assicurare che tutto il lavoro che era necessario svolgere per garantire sicurezza alla nostra comunità è stato svolto sono stati informati i sindaci dei comuni confinanti con noi che avevano avuto in qualche modo delle implicazioni per alcune diciamo attività che si erano svolte nei comuni diversi dal comune di Portici quindi da questo punto di vista rassicuro e voglio trasmettere un messaggio diciamo di tranquillità e di serenità che la situazione finalmente è nota ed è abbastanza sotto controllo nel senso che l'abbastanza per me diciamo è qualcosa di molto serio cioè per me l'abbastanza non significa che ci sono ancora cose che non abbiamo fatto significa che ci aspettiamo che purtroppo ci siano ancora casi di contagi perché come ci siamo sforzati di dire migliaia di volte guardate che riprendere la normalità tutti gli assembramenti potenzialmente possono essere momenti di contagio di recente abbiamo svolto due spettacoli a Portici uno con Massimo Ranieri e uno con Renzo Apio vi ha assicurato una faticaccia per garantire il distanziamento tra le persone per garantire che anche sia in entrata che in uscita non ci fossero assembramenti tutti quelli che fondamentalmente sono arrivati all'interno dell'area eventi e dovevano essere muniti di mascherina e sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura probabilmente il caso di questi contagi qualcuno di queste persone ha frequentato un'attività oppure si è svolta una serie di attività e non è stato sottoposto alle misure di protezione e di sicurezza che fondamentalmente devono essere garantite quindi spero di essere stati esaurienti vorrei salutare una delle persone che è guarita che è tornata dall'ospedale aspettiamo anche un'altra persona nei prossimi giorni tutti questi sette nuovi contagiati non sono ricoverati in ospedale non sono neanche con la febbre hanno avuto un solo giorno di febbre stanno tutti quanti in buonissime condizioni di salute e credo che nell'arco di una settimana massimo dieci giorni dovrebbero tutti quanti essere dichiarati guariti qualche altra comunicazione le scuole le scuole dovrebbero riprendere il 14 settembre secondo quello che dice la nostra amata ministra Azzolina una delle personalità più complesse dal dopoguerra ad oggi nessuno è riuscito a capire esattamente come riapriranno le scuole ma abbiamo la certezza che le scuole riapriranno che cosa faremo per le nostre scuole rapporti noi abbiamo una competenza limitatamente alle scuole il comune il sindaco l'amministrazione comunale ha una competenza in ordine alle manutenzioni ordinare e straordinare in riferimento agli istituti comprensivi gli istituti comprensivi sono quelli dove si fa la materna l'elementare e le medie l'assessore Buccelli che è presente diciamo più lontano conferma questa circostanza lei si occupa di politiche giovanili non di scuola ma c'è un bambino piccolo Ciro che fra qualche annetto dovremo cominciare a scolarizzare allora che cosa succede su questa sulla vicenda delle scuole noi abbiamo certamente la notizia che le scuole riapriranno il 14 settembre il 21 dovrebbero chiudere perché bisognerebbe svolgere le elezioni regionali e comunali laddove si fanno le elezioni comunali a Portici non si faranno ancora si faranno solamente le regionali e il referendum per tagliare il numero dei parlamentari il ministro Azzolina si è assunto all'impegno di comprare in tutta Italia i banchi monoposto circa 3 milioni di banchi che dovranno non solo essere comprati dallo Stato quindi dal Ministero ma dovranno anche essere consegnati in ogni singola scuola sinceramente oggi ne abbiamo 4 agosto non so come e se il ministro riuscirà a garantire questo tipo di fornitura io ho molti dubbi che ci riusciranno che cosa aspetta invece fare ai comuni i comuni hanno avuto dei fondi molto molto limitati anche qua hanno detto una marea di bugie pensate che il comune di Portici ha fatto una richiesta per questi fondi ha avuto attribuito 310 mila euro di fondi da dividere in 14 plessi scolastici i 5 istituti comprensivi sono articolati in 14 plessi scolastici abbiamo fatto delle riunioni con i dirigenti e con i responsabili della sicurezza di ogni singolo istituto comprensivo e abbiamo definito un certo numero di interventi tra virgolette definiti di edilizia leggera 310 mila euro se li dovessimo dividere in maniera paritaria tra tutti i 14 plessi scolastici renderemo conto che non avremmo diciamo una somma necessaria per poter manco immaginare di fare qualche cosa che abbia a che fare con una organizzazione di carattere manutentivo delle scuole siamo messi d'accordo per trovare diciamo degli interventi di realizzare delle tramezzature o di realizzare degli interventi di edilizia leggera per garantire nelle aule un minimo di distanziamento sanitario tra gli alunni secondo le esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici e sulla base di quelli domani scadrà una procedura di gara cosiddetta ristretta abbastanza diciamo con termini abbastanza abbreviati per dei lavori che dovrebbero cominciare il prima possibile probabilmente non oltre il 24 agosto per garantire che all'inizio dell'anno scolastico siano effettuati questi interventi che cosa va detto ai nostri cittadini ancora c'è un balletto diciamo sulle norme e sulle linee guida che garantiranno la sicurezza dei nostri bambini nelle scuole sembrerebbe diciamo che l'uso della mascherina lo stiano definendo in queste ore in questi giorni ci atterremo ovviamente alle decisioni che assumerà il ministero della salute e il ministero delle istruzioni i due ministri ci diranno con provvedimenti formali come ci si organizzerà nelle scuole tengo a precisare che gli istituti scolastici superiori non rientrano nelle competenze del sindaco e dell'amministrazione comunale ma nelle competenze della città metropolitana quindi tutti gli interventi di carattere edilizio che riguardano il liceo Flacco il liceo Silvestri la succursale l'ITC Carlo Levi le request riguardano non solo di competenze del comune bisognerà rimorgersi alla città metropolitana di Napoli che sarebbe l'ex provincia altro tema tutti gli interventi che riguardano l'igiene nelle scuole non sono di competenza dei comuni l'igiene nelle scuole è di competenza direttamente del ministero dell'istruzione che svolge queste attività per il tramite del direttore regionale dell'ufficio scolastico regionale che è la dottoressa Luisa Francese che saluta una persona molto educata e molto gentile e dei dirigenti scolastici dei singoli istituti quindi se le scuole hanno una scarsa igiene perché non puliscono adeguatamente non bisogna rivolgersi al sindaco bisogna rivolgersi direttamente al dirigente scolastico io questa cosa l'avrò scritta decine di volte l'ho detta una marea di volte spero che sia diciamo una delle ultime volte e che tutti quelli che debbano sentirla riescono a capire che cosa succederà per i servizi di competenza comunale per esempio la riflessione scolastica i dirigenti scolastici nei singoli consigli di istituto ci hanno chiesto che viste le condizioni diciamo emergenziali nelle quali cominceranno le attività scolastiche che la riflessione possa iniziare non prima del mese di novembre proprio per garantire un tempo tecnico di organizzazione della scuola sulla base delle nuove norme covid ovviamente la riflessione scolastica in tempi di emergenza covid sarà una cosa abbastanza complicata quindi questo tempo ci è utile sulla base delle richieste delle scuole anche per capire come riorganizzare come organizzare il servizio di riflessione in funzione diciamo delle norme covid non so se c'era qualche altra domanda che riguardasse le scuole credo di no spero di essere stato sufficiente chiaro e passerei diciamo a una breve tematica di carattere tra virgolette socio-economico allora abbiamo erogato tutti gli assegni di cura ai malati gravi e gravissimi secondo la scala Bartelli per quanto riguarda il per quanto riguarda invece tutta la questione del bonus covid portatori di handicap disabili e per quanto riguarda il bonus covid per i fitti o buone notizie le buone notizie sono che la regione il presidente De Luca ha avuto la sensibilità insieme all'aggiunta regionale di mettere ulteriori risorse di aggiungere quindi alle risorse che c'erano state assegnate ai comuni altre risorse questo consentirà di avere un ampliamento della graduatoria per quanto riguarda i bonus fitti quindi dovremmo soddisfare non so se tutta la platea ma buona parte della platea dei richiedenti ovviamente stiamo parlando di quelli che non hanno imbrogliato cioè quelli che hanno dichiarato quello che realmente è perché stiamo riscontrando un po' di domande diciamo di imbroglioni gente che imbroglia oppure finge di non sapere oppure proprio non sa e fanno dichiarazioni mendaci che vengono punite non solo con una sanzione di carattere economico ma anche con una denuncia penale davanti alla propria della Repubblica quindi facciamo attenzione chi ha sbagliato andasse a ritirare la domanda cercasse di trovare un modo per rettificare la propria domanda avremo quindi più risorse per il bonus fitti e più risorse per il bonus disabili bonus disabili ho parlato con la Regione Campania con la dirigente l'ottima dottoressa Somma e credo che riusciamo a soddisfare l'intera platea o comunque dovremo arrivare più o meno vicino all'intera platea mentre invece per il bonus fitti dovremmo ampliare notevolmente la platea per quanto riguarda il bonus fitti covid poi abbiamo collateralmente la gradatoria anche della legge 431 che è il sostegno alla locazione dovremmo ovviamente la norma dice che noi dobbiamo dare al beneficiario il contributo maggiore che significa che gli uffici stanno riallineando un po' tutte le domande per capire qual è il contributo maggiore tra quelli che hanno fatto entrambe le domande un po' di pazienza credo che per il mese di settembre dovremmo concludere questo lavoro che è un lavoro difficile complicato quindi non rompete le scatole che continuamente chiamate gli uffici perché stanno lavorando esattamente per fare quello che serve al beneficio di tutte le persone che hanno chiesto questi contributi quindi un po' di pazienza sono migliaia di domande le persone che lavorano non sono tantissime e tra l'altro anche queste persone hanno diritto a prendersi delle ferie e quindi faranno delle tornazioni durante i mesi estivi ma vi assicuro che con un po' di pazienza riusciremo ad avere un lavoro completo io credo che diciamo nella prima decade o massimo nella seconda decade di settembre credo che siamo in totale intorno a 1300 1400 domande quindi insomma non è poco i buoni spesa sono terminati col mese di luglio adesso stiamo pensando a un bonus tra virgolette bebè c'è un regalo che facciamo a ogni bambino nato nel 2020 apportici un regalo che prescinde dalla condizione diciamo socio-economica della famiglia proprio un regalo al nuovo cittadino che è nato con una rimanenza che abbiamo avuto di fondi che ci erano stati assegnati ci stiamo stiamo studiando sulla buona esperienza fatta con il progetto mille giorni stiamo pensando di fare un ulteriore sostegno diciamo alla genitorialità alla nascita attraverso questo bonus non credo che ci siano altre cose che riguardano tutto l'aspetto socio-economico della regione Campania credo si sta facendo un certo lavoro anche per quanto riguarda il bonus idrico della Cori il bonus idrico della Cori prevede un contributo covid con dei risparmi sulle bollette tra l'altro è una cosa che avviene credo ogni anno perché se non sbaglio ecco per esempio c'è insomma questo buscolo che può essere ritirato può essere scaricato sul sito della Cori la Cori crea molti problemi ai nostri cittadini ma ogni tanto qualche cosa di buono e quindi prendiamone atto e cerchiamo di incoraggiarli a fare sempre più cose buone ultimo tema che mi sta molto a cuore e che voglio dare una bella notizia una buona notizia ai cittadini porticesi oggi la giunta comunale ha approvato un provvedimento molto importante un'integrazione del progetto di ripristino dei muri fronti mare con adeguamento delle opere di protezione marittima parliamo dei lavori sul lungomare i lavori sul lungomare sono in corso proprio perché i lavori sono in corso si è reso necessario fare un'integrazione progettuale mettendo circa 3 milioni di euro da fondi regionali cosiddetti retrospettivi quindi fondi esterni all'amministrazione comunale recuperati attraverso un prezioso lavoro fatto dall'assessore Giacone dagli uffici tecnici dall'assessore Cirillo e dall'intera giunta all'intera amministrazione comunale in particolare con la maggioranza consigliare consiglieri comunali che ci hanno approvato decine di provvedimenti in consiglio comunale che ci servono a garantire i servizi ai cittadini e le opere di sviluppo della città sono quelli che votano in consiglio comunale che garantiscono questi servizi sono quelli che sostengono i provvedimenti in consiglio comunale quelli che riescono a garantire linee di sviluppo alla città certamente non sono quelli che scappano dal consiglio comunale senza assumersi mai una responsabilità quelli cui dobbiamo ringraziare perché sicuramente loro non fanno nulla purtroppo per la città neanche in termini di proposte proposte ridicole che eviterò praticamente di commentare in questa diretta perché mi sembra assolutamente sbagliato dare attenzione rispetto a cose che veramente c'è qualcuno che mi ha proposto la ricostruzione del ponte Morandi per cercare di far andare dalla banchina abbiamo superato il ridicolo non vale manco la pena di commentare atteniamoci ai fatti perché noi siamo persone che fanno la loro forza istituzionale soprattutto raccontando i fatti e non facendo annunci di chiacchiere che non servono a niente oggi l'Aggiunto ha approvato un progetto di 3 milioni di euro che sarà un progetto che riguarderà un intervento di manutenzione finalizzato alla riconfigurazione dell'opera aggettata mediante rifiorimento e risagomatura della scogliera che significa davanti al lungomare noi abbiamo una scogliera sommersa che fu realizzata circa 15 anni fa ovviamente abbiamo avuto mareggiate molto molto forti nel 2018 mareggiate molto molto forti tra la fine del 2019 e l'inizio del 2019 prima del covid ovviamente gli anni che sono trascorsi le mareggiate che ci sono state i moti ondosi che sono stati abbastanza perpetui e comunque hanno creato un problema alla sagoma della scogliera tenete conto che quando questa scogliera fondamentalmente questa scogliera quando è stata eseguita era imbasata tra i 4 metri ed i 5 metri di profondità dai recenti rilievi battimetrici che sono stati eseguiti si sono riscontrati degli assestamenti della scogliera che hanno rilevato degli scostamenti della sagoma geometrica che è risultante dal rilievo rispetto a quella di progetto cioè praticamente c'è stato uno spostamento della scogliera adesso questi interventi quindi interventi all'interno dello specchio d'acqua che riguarderanno la scogliera quindi la risagomatura della scogliera la rifioritura della scogliera e tutta una serie di interventi che riguardano soprattutto la difesa della costa rispetto al motonduso al mare sono interventi molto complessi che vanno fatti prima che l'appalto termini e proprio perché sono interventi molto complessi era molto importante ed è molto importante che l'amministrazione approvasse durante le attività di affalto il progetto integrativo di questa opera straordinariamente importante per la nostra città nei prossimi giorni nonostante il mese di agosto tra l'altro il mese di agosto notoriamente è un mese nel quale io personalmente utilizzo per lavorare proprio a questi progetti particolarmente gravusi e complessi ci saranno degli incontri in regione campagna perché stiamo immaginando che alla fine del percorso del lungomare si possa realizzare una darsena nell'area di Pietra Arsa nell'area diciamo al confine col museo di Pietra Arsa noi stiamo immaginando stiamo sognando delle linee di sviluppo della nostra città perché noi amiamo la nostra città e quindi come tutte le persone che amano noi sogniamo le linee di sviluppo della nostra città ma non sono sogni ad occhi aperti sono sogni che immaginiamo di poter realizzare lavorandoci e quindi chiediamo soprattutto ai cittadini la pazienza civica di sapere attendere che le istituzioni facciano il loro lavoro io continuo a rivendicare di aver fatto la scelta giusta a limitare l'accesso alla spiaggia delle mortelle quando ho cominciato questa diretta ho parlato di nuove sette casi positivi nessuno di noi si aspettava sette casi positivi negli ultimi sei sette giorni eppure ci sono stati nell'ambito degli stessi tra virgolette nuclei familiari il che significa che la prudenza non è mai troppo il che significa che l'attenzione deve essere ancora un'attenzione maniacale il che significa che dobbiamo continuare a dire che l'uso della mascherina è necessario il che significa che dobbiamo fare pernacchi e fischi a quelli che cercano praticamente di fare propaganda politica sulle sciagure derivanti dal covid sul covid 19 su questa pandemia straordinariamente grave che ha colpito l'umanità non ha colpito solo una città ha colpito l'umanità non bisognerebbe fare propaganda politica bisognerebbe rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare ognuno secondo le proprie competenze a cominciare dai cittadini che sono l'istituzione più importante perché se non ci sono i cittadini non esistono le altre istituzioni a che cosa servirebbe un'istituzione se non ci fossero i cittadini quindi i cittadini sono l'istituzione e dai comportamenti dei cittadini che si qualifica e si rappresenta l'istituzione e io continuerò a ringraziare quei cittadini che degnamente si comportano come istituzione perché sono loro quelli che danno l'esempio e sono loro quelli che tracciano la linea e consentono alle persone che hanno una funzione istituzionale e una responsabilità di esercitare al meglio il loro lavoro e soprattutto il loro ruolo io ringrazio molto per la collaborazione che sto ricevendo dai cittadini dai consiglieri comunali di maggioranza dagli assessori dai nostri dipendenti comunali impegnati tantissime ore nella giornata per garantire sviluppo del territorio e della città e soprattutto servizi ai cittadini quindi cerchiamo di fare tesoro delle parole che ci scambiamo quando abbiamo queste relazioni comunicazionali via social cerchiamo anche di trovare dei comportamenti adeguati in strada non puntiamo il dito verso gli altri incominciamo da noi stessi cerchiamo di rispettare quelle norme perché noi siamo i vettori di questo contagio e a noi spetta garantire la sicurezza degli altri garantendo la nostra sicurezza buona serata e vi raccomando attenetevi a quelle raccomandazioni che stiamo dicendo da mesi di rispettare di rispettare